Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili a causa di un mezzo pesante e intraversato chiuso il tratto tra Montopoli e Ponte d'Erest in direzione mare. Per questo motivo 4 km di coda tra Santa Croce e Montopoli e 1 km di coda in direzione Firenze sulla carreggiata opposta. Chiusa inoltre l'entrata di Ponte d'Erest in direzione Firenze. Per traffico intenso 2 km di coda in direzione Firenze tra Montelupo e la Strassigna. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ancora per traffico intenso rallentamenti sulla A1 tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna e sulla A11 tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!